Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. La prossima stagione TV sarà ricca di novità. In primis, l'arrivo su canale 5 di Temptation Winter, versione invernale del fortunatissimo Temptation Island. E, stato Pier Silvio Berlusconi ad annunciare questa grossa novità, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione. Fino ad ora però, si sa poco o nulla su questo nuovo programma. Anzi, non si sa nemmeno se davvero vedrà la luce. Sembra che tutto sia ancora in fase embrionale. La volontà di portare Temptation Winter sugli schermi di canali 5C. Questo è già un buon punto di partenza. Detto questo, viene da chiedersi chi potrebbe condurlo. Potrebbe essere affidato a Filippo Bisciglia, visto e considerato, che il conduttore sa bene come funziona questo reality. Filippo è molto amato dal pubblico, soprattutto quello che segue Temptation. Sono ormai anni che tutti quanti non vediamo l'ora di sentire la sua frase cult. Ho un video per te, dinnanzi al falò. Detto questo, in casa Mediaset potrebbero però cambiare le carte in tavola, ed affidare la conduzione della versione invernale a qualcun altro. Di questa opinione il sito d'Agospia, che qualche ora fa, ha riportato l'indiscrezione secondo cui, Filippo rimarrà a condurre solo la versione estiva di Temptation. Dunque, per lui, nessun falò in montagna. Sempre secondo D'Agospia, in lizza per condurre Temptation Winter, ci sarebbe un altro un nome molto caro a Maria De Filippi. Stiamo parlando di, Lorella Cuccarini. Sì, proprio la coach di Amici, sarebbe in pole position per guidare questa inedita versione invernale del reality delle tentazioni. Come sappiamo, il programma è prodotto dalla fascino di Maria De Filippi. Quindi, alla fine, sarà la nostra Queen Mary ad avere l'ultima parola. Da considerare anche il rapporto di grande stima e affetto che lega Maria e Lorella. Qualora la De Filippi le proponesse la conduzione di Temptation Winter, Lorella difficilmente dirà di no. Ecco perché l'indiscrezione che vede la Cuccarini come conduttrice della versione invernale, non è poi così campata in aria. La prof di Amici è molto apprezzata nell'ambiente televisivo, non solo da Maria. Basti pensare che la Rai, poche settimane fa, le aveva offerto di sostituire Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1. Lorella però ha rifiutato, preferendo rimanere alla corte di Maria De Filippi. La Cuccarini a quanto pare, sta bene dove sta. Bisognerà solo capire se Lorella riuscirà a conciliare il ruolo di Cochadamici, con l'impegno di Temptation Winter. Come detto, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Quindi nulla è ancora detto. E voi? Chi vorreste vedere alla conduzione di questa versione invernale? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie 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 a tutti.